Benvenuta a zona gialla. È il messaggio che il professor Franco Marinangeli, primario di anestesia e rianimazione all'ospedale dell'Aquila, ma da qualche giorno anche direttore sanitario protempore, ha voluto affidare ai social con una lunga ma interessante riflessione. Sono giorni di grande impegno per lui. Oltre agli impegni tradizionali di medico, ci sono ora tutti gli aspetti organizzativi e amministrativi del presidio ospedaliero. La situazione all'Aquila è tutto sommato tranquilla dal punto di vista dei contagi. Gli ultimi ricoveri sarebbero relativi al territorio di Pescara, dove si è investito il trend zona interna e costa. Ma questo, soprattutto con le riaperture per la nuova fascia, non deve indurre a pensare ad un libera tutti. Lo dice chiaro chiaro lo stesso Marinangeli. Non si faccia l'errore, spiega, di pensare che possiamo tornare a una vita normale. Non è così. Anche se i contagi sono tornati a livelli accettabili e pronto soccorso stanno respirando, la nostra terapia intensiva Covid è il 100% dei posti occupati. Marinangeli spiega che hanno un piano di gestione per eventuali richieste di posti aggiuntivi, ma questo significa che non è ancora una situazione di normalità. Stiamo gestendo, prosegue, la coda di una seconda ondata, che è stata di una gravità quadrupla rispetto alla prima, e non possiamo rischiare che una terza ondata si inneschi quando la seconda non sia ancora chiusa. Il primario plaude alle ripartenze delle attività commerciali e dei ristoranti, ma indica anche la via. Sono da frequentare con il massimo senso di responsabilità, come sempre. Sulla campagna vaccinale il medico dice che vaccinati in generale sono ancora pochi per dare una garanzia di protezione totale. Per quel che riguarda i contagi poi, se prima questi erano legati ad assembramenti, a cene tra amici fuori casa, ora in quest'ultima fase si sono visti molti malati appartenenti agli stessi nuclei familiari. Quindi massima attenzione richiama lui, pure in famiglia, continuando ad evitare contatti con persone anziane e fragili. A malattie infettive, conferma il primario Alessandro Grimaldi, ci sono otto pazienti ad oggi. Per l'Aquila la situazione è stabile, secondo lui tendente alla discesa, mentre alcuni focolai hanno fatto risalire la curva a Pescara e Chieti.